Il parco di rinnovamento del parco mezzi di Tua con questi acquisti, oggi 67 mezzi, entro la fine dell'anno ne arrivano altre decine, quasi 100 nel corso dell'ultimo anno su meno di 800 complessivi. Il risultato è che portiamo a meno di 9 anni, a 8 anni, l'età media del parco mezzi che è uno dei risultati migliori che si possono vantare nelle aziende di trasporto italiane, quindi possiamo dire che oggi l'azienda di trasporto pubblico abruzzesi è una delle aziende in Italia con il parco mezzi più moderno, più efficiente e più sostenibile dal punto di vista ambientale.